Sembra la scelta giusta Buona il tocco di Lallana Attenzione pericolo Potrebbero incrementare il vantaggio Sfruttando a dovere questo tiro della bandierina Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo Palla messa dentro Che gol! Splendida rete! Un gol che rende ancora più significativa la distanza fra le due squadre Ma ovviamente bisogna mantenere l'attenzione Bel gol, certamente Ma ci sono anche le responsabilità della ripesa Non poteva sciupare questo cross perfetto dalla fascia Ah che delizia, che raffinatezza, che spettacolo Assist davvero perfetto, bisognava solo metterla dentro Ha concluso in porta con determinazione Realizzando davvero un bel gol Sì, la difesa non ha fatto in tempo a reagire